Calciomercato Juventus, presi i giovani fratelli brasiliani a Pelt-Pires. Zitta zitta la vecchia signora si è regalata l'uovo di Pasqua, un doppio uovo in questo caso, visto che alla Juventus sono arrivati due calciatori, fratelli per la precisione. L'ultimo colpo di mercato bianconero porta a Torino, dal Resende, i promettenti giovani brasiliani Gabriel e Guilherme. L'operazione è stata portata a termine grazie ad un efficace blitz di Marotta e Paratici, ad un costo di 2 milioni di euro più bonus. Gabriel è un centrocampista classe 93, seguito da tempo anche da Liverpool e Inter, mentre Guilherme è un attaccante leva 92. Entrambi dispongono di passaporto comunitario e arriveranno a Torino a luglio per essere a disposizione della squadra a partire dalla prossima stagione. Gabriel Apert-Pires, questo è il nome completo del calciatore, è una delle rivelazioni di questo campionato brasiliano. Ultimamente è riuscito ad annullare Ronaldinho nella sfida disputata contro il Flamengo. Ma le novità internazionali per la Juventus non finiscono di certo qui, visto che il Terek Grozni, squadra cicena allenata da Ruk Gullit, sembra voler inaugurare il suo nuovo stadio con un amichevole di prestigio internazionale e gli avversari prescelti dovrebbero essere proprio i bianconeri. Grazie.